Ciao ragazzi io sono Loh e vi do il benvenuto su CimaxoTV Eccoci qui con la seconda parte di The Park Allora iniziamo subito a giocare, continue game Ecco si, mi ero fermato qua, cioè mi ero fermato da sopra però ero sempre qua Ok allora facciamo la solita strada Andiamo di qua Ok lo facciamo adesso dai, non importa se non sei mai salita qua Allora qui è tanto tanto buio Ragazzi non vedo niente, ok, ecco qua Sì adesso andiamo sulle montagne russe, perfetto Qua avrei voluto tanto avere Oculus Rift o qualsiasi VR Chi? Ma chi sta parlando? Ma chi sta parlando? Ragazzi io non ho più pari idea chi sia questo Dice che la strega ha Calum e anche lei Sì infatti lasciaci da soli Ok adesso si scende, si scende, si scende, si scende, si scende, ecco Ma che, ma che diavolo Ragazzi non so cosa stia succedendo Mi viene da ridere ok? Dai Allora Qui è come se lei fosse in ospedale E io dico no Ma che cavolo è quello? Vabbè Ragazzi Ragazzi Io non so cosa stia succedendo Vabbè Ok Allora Quello era Calum Ragazzi che cavolo è successo? Ok Abbiamo Finito il nostro giro Spero proprio di sì Sì Abbiamo finito Ok sento Strani rumori Vabbè Non importa Ok qui c'è una pagina Funziona Vabbè Vabbè ok È come se ci fosse qualcuno qui Calum Dove cavolo sei per pensare dimmelo Calum Andiamo di qua Ragazzi Io non so dove stia andando però Uh finalmente una torcia Vabbè E la torcia come faccio a usarla Ah sì c'è È la torcia No ragazzi Ma che cavolo Vabbè Non so come usare la torcia Prendiamo con T Torce No Veniamo di qua Ragazzi Calum è scomparso Calum ha bruciati sulle armi Fingere Marks Qualcuno ha stato scusato Ma chi? Ho chiesto Ho chiesto E' chiesto E' chiesto Di sapere dove ha ottenuto le mark Qualcuno sta facendone male A Calum Qualcuno ha scusato il suo silenzio Non potere parlare Non potere Ha cambiato Alcuno ha fatto Qualcuno sinistro Si guarda nella scuola dietro i suoi occhi Di notte Di notte ripianze E Dice cose che No ma Dirti cosa Allora Dice che qualcuno Sta guardando E che No E che Sussurano cose Di notte Non so se qua Dove andare a destra A sinistra Però io ho scelto Di andare a destra Va bene Andiamo di là Mi ispira di più Ok si 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 dai Forse siamo Calum per piacere Fatti vedere Allora Cosa c'è scritto qua Ragazzi Cioè Ho sentito Qualcuno Allora Io non vedo niente Non vedo niente Letteral C'è qualcuno No Si è chiusa la porta Si è chiusa Si è chiusa il cancello Si è chiusa il cancello Dai lasciatemi Fatemi tirare Dai Dai No Non posso uscire Ok Dai dai Qui c'è un giornale Cos'è che ha fatto Ok qualcuno Abbiamo trovato Di corpi Non lo so Vabbè Non mi va di leggere Ragazzi Ma chi C'è qualcuno Anzi sento cose C'è Senta dei passi Ragazzi Calum Sul serio qua Sto gioco mi mette ansia C'è qualcuno Qui con me Calum Tutto chiuso Ma dove cavolo Devo andare Ok qui c'è qualcosa Ci sono dei strazzi E andare di qua Cotton candy Qui si deve essere qualcosa No ma dove cavolo Allora Cerco di andare In ogni angolo E vedere Dove posso andare Ok di qua Ma dov'è Calum Ok forse Allora facciamo Seguiamo le tracce Non vanno di qua Ma vanno di Cosa sta roba Allora vanno di qua Di qua Vediamo che portano le tracce Di queste cose qui Perfetto Di qua Grazie È sangue Questo Guardate qua No ma che Cavolo è Quello Ehi Allora Ma Ok Qui c'è sto Ma che Ragazzi Non ci posso credere Allora avevo sentito che non potevo andare dietro Questa stiera Mi son girato e mi son trovato che cosa là davanti Anzi qui Sta morendo Ho il cuore che va a mille ragazzi Ma che Cavolo Non me l'aspettavo proprio Non me l'aspettavo Ok E adesso Non andrò mai più in una parte Mai più Mai Ok Ok di qua Non Non so dove Dove cavolo devo andare Allora Mi provo ad andare di qua E No Ragazzi Aiutatemi Dove devo andare Allora Allora C'è sti suoni qua che arrivano da nulla Io Veramente impazzisco Ok Ci sono le tracce che vanno di qua Poi vanno di là Vanno di qua Che infarto che ho preso comunque Sì ma come faccio a uscire da qua Come faccio Ok ragazzi Dice qualcosa Ok Delle pillole Pillole per cosa Ma no 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 Mamma Non sei Non sicuro Dite no ai graffiti 1900 Ma che Ha cambiato il posto ragazzi Ha cambiato il posto Allora È cambiato il posto Non crede a tutto quello che ti ti Però Qualsiasi cosa dicano Non puliti il naso Non scaccolarti il naso sarebbe Cosa Wow che poteri magici che ho Calum Sei tu Calum Non voglio Eh Amico Non voglio essere spaventato di nuovo Per piacere Non farmi niente Che Ah sono Sono orsi Cioè Ma che Ragazzi io non capisco niente In questo Don't touch me Ganno Ok Perfetto Andiamo di qua Colpisco le spalle Quello Boom È un home run Ragazzi mi sono perso Mi sono perso Uh No Ma che Cavolo No no Cosa sono No ma Ragazzi che Diavolo sta succedendo Siamo proprio in questo Parco qui Dove ha perdere L'orso Il suo figlio Ok Di qua Di qua Di qua Dai Mi hanno lasciato Di qua Il parco è un collage Di contraddizioni Alla sua Milioni di persone Dio Ogni anno Infatti Ma sta qua Perché Parla come una pazza Quinti centesimi Per un Un Orsetto Cinese Ma che strega Dove Ok andiamo di qua Per piacere Oh Dio Il parco Cosa è Cosa è Qui Vero Ehi ma Cos'è Ragazzi qui è tutto Un casino Non capisco niente Non capisco niente Cioè vado di qua Vado di là Oh Cavolo Mi sa che mi tocca Andarla dentro Ok Cioè sento sempre qualcuno Che passa nell'erba A fare non so cosa Quella è la Casa della strega No Forse Cioè Parlano della strega No Posso entrare là dentro Per piacere Non voglio entrare là dentro No No Non posso farlo Qua voglio Una bellissima forza No Ok ragazzi Entriamo lì dentro Callum Callum Non sto a spiegare Callum Callum dove cavolo sei Per piacere dimmelo Ok ragazzi Proviamo a entrare qui dentro No Non si vede niente Vuol dire che non devo entrare qui dentro Un attimo Vedo se Si può attivare la torcia Gameplay Quindi Non c'è scritto niente Perfetto Io vado di qua Vado di qua Vado di qua Vado di là Callum dove sei? Vado di qua E sotto di qua Dai che ce la faccio Dai Dai che ce la faccio Infatti Callum Questo non è un gioco Fatti vedere Così andiamo a casa Oh ragazzi Vi ricordate Che qui c'era Il Cosa la Chad Si Adesso Chad Come sapete Non c'è più Non c'è più Ragazzi cos'è questo suono? Si Allora vi consiglio Guardare questo video Mettendo il cuffio Perché ci sentono dei suoni Molto strani Ok Qui sto salvando No dai Dai non ridere Allora Posso fare di nuovo Immagino Sussigna Si ma forse se lo faccio S'identica cosa No non devo andare di qua Va a tornare indietro Allora Io mi son perso Ragazzi Son perso Calum per piacere Fatti vedere Almeno di qualcosa Calum dai Fallo per la tua mammina Dai Calum Non fai Butto la mia Calum Calum Ragazzi L'unica cosa che mi viene in mente È di entrare lì dentro Però È troppo buio Quindi non so dove cavolo Stia andando io Oh Io provo Vado lì dentro Sono andato Si sono entrato lì dentro Perfetto Allora Allora Siamo nella bocca Dico che cosa Perfetto Questa parte Mi fa veramente paura Quindi Ragazzi Per ora mi fermo qui Ricordate di mettere un mi piace E di iscrivervi al canale Farò altri video di park Perché Questo gioco qui ragazzi Mi sta piacendo un sacco Per adesso Ho preso solo Un infarto O due Penso Non di più E spero che più avanti Diventi sempre più horror Perché mi sta piacendo Da morire Ciao ciao Ci vediamo alla prossima Non presenta Mi sto già facendo brutta figura Non sei neanche riuscito a vincere Beh hai vinto solo un giro Ma non sei riuscito a vincere Anche una pista Non sei riuscito a vincere Buono Non sei se riuscito a vincere Ma non sei riuscito a vincere Non No